Inizio della sequenza 7, dopo il banchiere, dopo il barone, c'è la chiave del castello Non so quante sequenze siano, a dir la verità Però so di per certo che questa è la 7 Dove dobbiamo recarci Dalla volpe E come prima missione della sequenza 7 Non facciamo una missione della storia principale Ma facciamo un'altra missione per Cristina Vorrei tanto capire dov'è però Eccola Perché è la mamma quella? Lo chiedo Riportaci in quel di Firenze Maremma maiala 1478 19 anni aveva Ezio Che cosa ci fai qui? Sono appena tornato a Firenze Ma guardati Bellissimo Con orecchio di fuori, muoio Ezzio, io sono passati due anni E io non ho fatto altro che pensare a te No, ma Ezio Che cosa c'è? Sono promessa in sposa No Mio padre continuava a dirmi di scegliere Pensevo che non ti avrei più visto Manfredo Lo vuole ammazzare Che cosa? Chi cazzo è Manfredo? L'ha trascinato sul ciglio del ponte nuovo Chi diavolo è Manfredo? Il mio fidanzato C'era salvare il fidanzato di Cristina Già Andiamo al ponte Nuovo Quindi è quello in costruzione Già Ma perché non c'era Assassin's Creed Brotherhood Firenze Era fatta così bene Ma così bene C'ho delle armi? C'ho le armi di Assassin's Creed 2 Donna, come era fatta bene Non è colpa mia I soldi dovevano arrivarmi oggi Ma c'è stato un ritardo nei pagamenti Boom Grazie messere Non sapete quanto Ehi, fermo Che cosa fate? Tu l'ami? Come? Ti ho chiesto se l'ami Cristina La donna che stai per sposare Sì Sì, la amo Ve lo giuro Ammazzatemi Dovresti farlo Non giocherai mai più Non giocherai mai più d'azzardo Mai più messere Sarai un buon marito per lei O ti darò la caccia E ti ucciderò con le mie mani Oh nooo Plot twist Che grande Ezio Sta bene Sarà un buon marito per te Ne sono accertato Che Che cosa? Che cosa? Addio Firenze Addio Firenze Addio Firenze Addio Firenze Nooo Fammi raggiungere il duomo Almeno prima Niente Non si può L'amaro in bocca Sì che siamo tornati a Roma Era molto impressionato